Mi separo in questo momento da tutti i babies che strillano dalle finestre aperte, mi separo da tutti i miei babies, e solo in questo galestro bianco 85 mi rendo conto che siete stati vivi, zii dell'Ottocento. La preparazione alla prima comunione si faceva dalle canossiane, un'ora tutti i giorni in terza elementare. Madre Hilde ci diceva che il monello e soprattutto gli albi dell'intrepido non dovevamo leggerli. Studiavamo a memoria le risposte da dare al Monsignore che al sabato veniva a interrogare. Chi commetteva sacrilegio poteva essere punito anche subito se Dio lo decideva. A Madrid un certo signore che aveva mentito al confessore e si era presentato ugualmente alla comunione era rimasto con la lingua fuori. C'era anche il disegno nel libretto dell'uomo inginocchiato con la lingua fuori. Il padrino doveva essere in grazia di Dio come il cresimando, altrimenti era nullo il sacramento. E siccome lo zio Pietro bestemmiava sottovoce alla partita, io mi feci coraggio con la mamma che ero grande, ma lo zio aveva già preso l'orologio. Dio sia benedetto si doveva dire se si udiva qualcuno bestemmiare. Rimetteva il peccato anche se non bastava al peccatore. Così allo stadio sulla Varesina erano tanti Dio sia benedetto da pensare, non avevo nient'altro da pensare. E' distillata quella delle prealpi, arbitro! E io non riuscivo, nella complicità delle risate, a capire se era vero era lo sputo dagli spalti. E lo zio, i colpi di tosse, l'amaro Diciotto, Isola Bella, vedendo quello che saltava all'indietro, ricadendo di schiena, devono stare attenti, sti ragazzi si pagano dopo queste cose. E nell'intervallo mi portava giù. Il vapore che usciva, i rivoli dell'acqua schiuma, Sacra Nù, Sacro Nome, credo. Protezione della giovane Fu la protezione della giovane a mandare Teresa Soave al posto di Rita Mugnon, che si era sposata. Aveva 16 anni e suo padre la venne a accompagnare. 13.000 al mese senza mutua, cameretta con Catino a specchio, la radio alla sera in Tinello, solo quando c'era la nonna. Pomeriggio di domenica, libertà fino alle sette, urli e ritardi per i militari dei baci. Una sera piangeva e piangeva da svegliarmi mentre rigovernava. Origliai il pianto per un po' in silenzio, poi se ne accorse. «Promettimi che torni a letto, non lo dici alla mamma?» Lo tentò con un ferro da maglia sul parchè dove la luce filtrava tra le griglie i piccoli granelli. C'erano ancora i segni neri della braccia di quando a carponi soffiava nella stufa. «Promettimi che torni a letto, non lo dice alla mamma?» «Promettimi che torni a letto, non lo dice alla stairola per le stufa. Grazie a tutti